Benvenuti amici di MobileOS.it, come vedete da questo tagliandino siamo con Zenfone Zoom. Zenfone Zoom è un nuovo prodotto della casa taiwanese e come vediamo ha uno zoom che qua non si vede molto ma è sporgente perché è ottico, è formato da 10 lenti calibrate e ci permetterà di avvicinarci al soggetto in macro fino a addirittura 5 cm di vicinanza. Sappiamo che verrà venduto con 4GB di RAM DDR3 e come dire qui un processore 64-bit quad-core Intel Atom come tutti gli Zenfone provati fino ad adesso. Adesso vediamo un po' come gira ma dovrebbe girare abbastanza bene. Vi vorremmo andare a far vedere un secondo la fotocamera, intanto qui abbiamo il tasto per lo scatto quindi l'implementazione perfetta da parte di Asus. No, non lo trovo, avremo l'opportunità di provarlo a breve, ce l'ha detto Asus, quindi aspettate sul nostro canale la video prevede.